cari cancro questo mercurio che improvvisamente vi mette il bastone fra gli zebedei non ci voleva perché il lavoro potrebbe essere fonte di nervosismo i rapporti interpersonali potrebbero farvi saltare la mosca al naso soprattutto lunedì e in parte anche sabato e domenica quando la luna nel vostro segno potrebbe farvi sclerare in modo un po troppo anche ingiustificato perché poi bisogna anche fare un po la tara i problemi le cose nel complesso non vanno male potete portare a casa importanti successi nel lavoro perché venere e giove i pianeti della fortuna si muovono proprio nella vostra casa astrologica che simboleggia il lavoro però e siete voi che siete veramente una palla legata al piede agli zebedei alle caviglie e anche fornicatoriamente potresti lasciare un ciccinino a desiderare su 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 su